salome buongiorno a voi rieccoci a questa nuova live come promesso vi avrei parlato di un argomento molto importante molto interessante molto richiesto che il concetto ebraico sulla nefesh sulla ruach e neshama in sostanza oggi parleremo dal punto di vista ebraico dei concetti che si nascondono dietro al concetto appunto dell'anima buongiorno intanto a quando si stanno collegando elisa e danni grazie di essere qui con me questa mattina nell'attesa che si collegano altri altri interessati all'argomento io un attimo condivido il link nella mia bacheca quindi nel frattempo chi vuole può condividere questo questo video nella propria bacheca nei propri canali sociali in modo da poter dare la possibilità a quante più persone possibili di ascoltare questa live questa diretta ovviamente questa diretta rimarrà registrata si potrà rivedere in differita prossimamente e quindi poterla riguardare con la propria tranquillità perché i concetti che spiegheremo adesso saranno concetti non di immediata comprensione assimilazione ma cercherò nel massimo delle mie possibilità di esprimerli in maniera accessibili agli ascoltatori anche quelli la meno preparati in argomentazioni ebraiche o comunque concettuali scusate per la tosse purtroppo i cambi di stagione mi causano quella che io chiamo anzi come dicevano i sumeri la tosse babba una tosse stupida che purtroppo mi viene periodicamente che comunque passa velocemente dunque io già ho condiviso il mio link in bacheca sono le 10 e 46 ancora un minutino dopo di che comincerò l'esposizione della lezione quindi mi raccomando condividete tenete bene le orecchie ben aperte se volete prendete appunti ma vi consiglio di non prenderli di ascoltare poi eventualmente gli appunti quando riascolterete ulteriormente la lezione bene io preparo la mia posta nel frattempo volevo dirvi che se c'è un argomento di vostro interesse un argomento che a cui vi piacerebbe ascoltare un approfondimento potete scrivermi per email all'email daniele salamone 3 chiocciola gmail punto non daniele salamone 3 chiocciola virgilio punto it poi creerò una mail apposita proprio per questo servizio dove potete espormi tutte le vostre domande tutte le vostre perplessità sulla bibbia e io cercherò di raccogliere quelle maggiormente richieste quindi poi elaborarne uno studio per voi ovviamente questi studi che io vi propongo non sono studi dalla quale voi dovete pendere nel senso che è giusto che voi verifichiate attraverso la scrittura tutto quello che posso dire io o chiunque altro quindi non fidatevi ciecamente di tutto quello che dico perché la mia parola è sempre parola di uomo però dietro ogni studio c'è sempre una preghiera sincera quindi quello che io dico sempre che non voglio essere un impostore della parola di dio quindi se comincio a dire scemenze vi prego fermatevi fermatemi sempre con i dovuti modi oltretutto io non risponderò alle vostre domande in questa lezione mi limiterò semplicemente a fare una chiacchierata dopodiché per le domande vi rimando all'email torat project italia chiocciola gmail.com la lezione di oggi non è una lezione così improvvisata ma è semplicemente una lezione che è ausiliaria a una lezione precedente noi abbiamo terminato ieri il commento al capitolo 2 di genesi e questo argomento di oggi i concetti dell'anima e dello spirito nel pensiero ebraico si allacciano alla prima parte che abbiamo analizzato del capitolo 2 ovvero sui versetti 1 e 8 dove si dice che l'uomo l'adamo divenne una nefesh haya un'anima vivente una persona viva ecco siccome questo concetto sull'anima è molto importante io oggi vorrei realizzare questa lezione ausiliaria che si andrà ad aggiungere alle lezioni precedenti sulla genesi quindi questa lezione fa parte del torat project italia in collaborazione con l'emittente libera alle ftav alfa omega di giuliano cametta è promossa dalla yeshivat shuvu italia la scuola messianica rabbinica che è frequento e di cui ho anche l'onore di essere parte del corpo docenti vi invito a chiedere informazioni su questa scuola è una scuola molto è una famiglia dove si può apprendere la scrittura dal punto di vista ebraico quanto più genuino possibile quindi vi invito ad interessarsi di interessarvi a questa scuola per colunque informazione potete scrivere me potete scrivere alla pagina yeshivat shuvu e vi saranno date tutti i chiarimenti per poter diciamo fare parte della nostra famiglia e cominciare a studiare insieme a noi shalom ai nuovi aggiunti buongiorno giuseppe delfino buongiorno giovanni bell'antoni shalom a te buongiorno franco scalio buongiorno e shalom gina bene io direi di cominciare perché già cinque minuti ce li siamo rubati con le presentazioni bene oggi parleremo della neshamah della ruach e della nefesh ovvero tre parole per una sola anima nella nostra cultura occidentale siamo abituati a identificare l'essere umano come una creatura dotata di tre elementi chiamati spirito anima e corpo e quindi a seguito di questa triplice forma di cui ha fatto l'uomo noi diciamo siamo abituati a dire che l'uomo è trino ecco affronteremo questo discorso un poco più avanti quando cerchiamo di dare una spiegazione a questi tre componenti che sono gli ingredienti con i quali è stato fatto l'uomo molto spesso non sappiamo nemmeno cosa diciamo specialmente se cerchiamo di affrontare questo argomento dal punto di vista biblico finché si argomenta lo spirito l'anima e il corpo da un punto di vista non biblico siamo liberi di poter dire e ipotizzare tutto quello che vogliamo quindi di poter filosofeggiare su questo ma quando cerchiamo di affrontare l'argomento da un punto di vista biblico allora è bene riflettere prima di dire le cose quindi capire cosa gli antichi intendevano per gli antichi mi riferisco gli antichi autori biblici cosa intendevano per anima e spirito una domanda che vi viene sempre posta e che cercherà di dare una risposta oggi è daniele qual è la differenza tra spirito e anima dal punto di vista ebraico secondo la presunta visione b che si ha della bibbia quella che è quella più ampiamente accettata questi tre elementi funzionano in questo modo il corpo il quale ospita spirito e anima è quello che muore l'anima è quella che va poi in piso o all'inferno a seconda di come ci siamo comportati e lo spirito è qualcosa che ci abbandona e di cui non sappiamo quale sia la sua destinazione o a meno che una destinazione a meno che una destinazione vi sia effettivamente nel pensiero ebraico quello che che è presente nella bibbia ebraica ovviamente non nei nostri concetti occidentali che abbiamo di anima e spirito esistono tre parole e queste tre parole ebraiche sono neshama ruach e nefesh le quali possono significare tutti e tre anima ora qual è la loro differenza ognuna di queste tre parole può avere significati molto diversi in base al contesto in cui vengono utilizzati nella bibbia ebraica e quindi anche nel nuovo testamento che è ebraica il nuovo testamento è ebraico maschile ad esempio secondo il rambam ovvero maimonide uno dei più grandi pensatori ebrei medievali quando spiega che quando è usata come una descrizione di dio la ruach si riferisce alla volontà di dio il quale porta rambam come esempio genesi 1 1 dove si dice è la ruach di elohim alleggiava sulle acque quindi per il rambam genesi 1 2 in genesi 1 2 si parla non del respiro dello spirito di dio come siamo abituati a leggere nelle nostre traduzioni ufficiali ma della volontà divina e rivedremo più avanti questo versetto tradotto in maniera leggermente diversa a luce delle spiegazioni che daremo tra poco è anche vero però che non esistono solo tre parole per riferirsi all'anima esistono in realtà cinque parole cinque concetti per riferirsi all'anima quindi ce n'è altri due oltre i tre che abbiamo detto che sono nefesh ruach neshamah quelli che abbiamo detto e in più c'è chayah e yehida quindi chayah e yehida si aggiungono a nefesh ruach e neshamah questo preciso ordine di elencazione quello che vi ho detto poc'anzi nefesh ruach neshamah chayah e yehida proviene dal midrash bereshit rabba al capitolo 14 versetto 11 e vediamo cosa dice il midrash nello specifico ci sono cinque nomi con i quali si chiama l'anima nefesh ruach neshamah chayah che significa vivente e yehida che significa unico uno in senso assoluto la nefesh è il sangue la ruach è ciò che sale e scende come scritto in ecclesiaste 3 21 chissà se il soffio dell'uomo sale in alto questo dice la scrittura poi la neshamah indica il volto il personaggio la chayah la vita consiste in tutti gli arti che si muovono nel corpo e la yehida indica che tutti gli arti sono a due a due ma allo stesso tempo singolari nel corpo ci sono però altre posizioni rabbiniche sulla spiegazione di questi elementi dell'anima uno che discutiamo adesso appartiene al pensiero di rav saadia gaon un rabbino uno dei saggi di israele questo rabbino era uno razionalista aristotelico sebbene in misura decisamente minore rispetto al rambam il quale il rav saadia ha affrontato l'argomento quando ha commentato il sefer a yezira il libro della formazione ecco cosa ha scritto il rav saadia gaon quando l'anima è attaccata al corpo si possono ravvisare tre abilità la prima è il potere della scelta la seconda abilità è il potere del desiderio la terza il potere della rabbia pertanto nella nostra lingua riferendosi all'ebraico naturalmente è chiamata con tre nomi nefesh ruach e neshama il fatto che il termine nefesh implichi al potere del desiderio se ne approva in job 33 20 dove scritto quando egli ha in avversione il pane e lo ripugnano i cibi più squisiti è accennato nel termine ruach che ha il potere di essere infastidito arrabbiato quando ecclesiaste 7 9 dice non ti affrettare a irritarti nello spirito nello spirito tuo perché l'irritazione riposa in seno agli stolti quindi se chi sta ascoltando è irritato la scrittura lo etichetta come stolto quindi non irritatevi continua la citazione è accennato nel termine neshama che ha il potere della saggezza poiché job 32 8 dice ma quel che rende intelligente l'uomo è lo spirito è il soffio dell'onnipotente quindi il soffio di dio è ciò che dà l'intelligenza all'uomo ed anche in job 26 4 è scritto ma chi ti credi di aver parlato e di chi è lo spirito che parla per mezzo tuo ancora continua il saggio dicendo a motivo di queste abilità colui che le ha separate le ha fatte diventare due parti errate le quali una è nel cuore e l'altra nel resto del corpo piuttosto tutte e tre sono nella nefesh soltanto quindi la lingua ebraica riferendosi alla alla sua lingua il gaon ha aggiunto altri due termini quali hayah e yehidah si chiama hayah perché esiste attraverso ciò che il suo il suo creatore fa esistere ed è yehidah perché non c'è nulla di simile tra tutte le altre creazioni né in cielo né sulla terra quindi secondo il rav saadia gaon esiste un'anima indivisibile che detiene però tre serie di abilità quindi l'anima secondo il concetto ebraico è trina ovvero è triunitaria e già qui stiamo cominciando a capire come il concetto esiste nella triunità nel pensiero ebraico ora vediamo quali sono queste tre abilità che detiene l'anima indivisibile la prima sono le emozioni che ci attirano verso le persone e le cose ovvero il desiderio poi il secondo caso è quello che ci allontano quelle cose che ci allontanano dalle persone e dalle cose la rabbia quindi la rabbia è l'opposto del desiderio e infine come terza abilità abbiamo il pensiero l'anima non ha nomi diversi a seconda del contesto se stiamo parlando di una di queste tre abilità della sua capacità di persistere o della sua unicità un'altra opinione o due opinioni che vorrei aggiungere adesso sono quelle del gaon di vilna e di un rabbino di nome haim volotshainer il volotshainer da una spiegazione in base alle illustrazioni respiratorie di cui si parla in genesi 2 5 ovvero quelle che abbiamo discusso in una lezione precedente del corso di torah e l'uomo divenne una nefesh hai a nell'uomo divenne un'anima o una persona vivente così scrive rav haim in nel nefesh ha haim 115 quindi vi elenco vi cito la la sua il suo modo di spiegare i nostri rabbini hanno già paragonato il triplo ruach vivente dell'uomo alla fabbricazione di un utensile di vetro attenzione facciamo attenzione a questo concetto che è meraviglioso i rabbini dissero è una discussione halva homer a fortiori di un utensile di vetro che è fatto attraverso il soffio di carne e sangue a maggior ragione carne e sangue è fatta dal respiro di akadosh baruchu akadosh baruchu è un modo per riferirsi a dio che significa il santo benedetto egli sia il messaggio deve essere simile alla metafora quando studiamo il respiro della bocca dell'artigiano quello che soffia il vetro col tubo quando studiamo quindi il respiro della bocca dell'artigiano che poi arriva al contenitore di vetro troviamo in esso tre concetti ecco cosa dice il volozheider punto numero primo concetto numero uno la prima idea è quando il respiro è ancora nella sua bocca nella bocca dell'artigiano del vetro prima che entri nell'apertura del tubo vuoto questo respiro nella bocca dell'artigiano è la la seconda idea quando il respiro viene soffiato nel tubo ed esso continua ad attraversarlo nella sua lunghezza si chiama ruach vento la terza idea quella più bassa è quando il soffio la ruach che si trova dentro al tubo arriva al vetro il quale si gonfia fino a diventare un contenitore o qualunque forma sia per adattarsi alla volontà del soffiatore del vetro quindi il suo soffio si ferma dentro questo vetro e diventa nefesh che equivale a un periodo di riposo e relax in poche parole spiega il rabbino l'anima viene paragonata alla boccata d'aria che il soffiatore usa per poi gonfiare il vetro ancora caldo questo processo è divisibile in tre parti cerchiamo di capirlo meglio la prima parte è l'aria poiché ancora nelle guance del soffiatore leggo quando il soffiatore trattiene prende fiato quella lì è la neshama questa corrisponde alla neshama la parte dell'uomo che è più connessa a dio punto numero 2 quando la neshama lascia materialmente la bocca del soffiatore scorre giù dal tubo che poi da permette al vetro di gonfiarsi il tubo quindi collega il soffiatore con l'oggetto che sarà formato dal suo soffio nello stesso senso la ruach abita nella connessione intermedia tra il fisico e lo spirituale questo flusso di vento il soffio quello che passa all'interno del tubo è la ruach e il concetto di ruach è anche quello di aria in movimento quindi qua stiamo parlando di un concetto unico dove nelle guance del soffiatore si chiama neshama quando questa neshama arriva nel tubo passa attraverso il tubo si trasforma in ruach e punto terzo dal tubo poi l'aria entra nel vetro ecco spiegato il senso delle parole dio soffiò nelle sue narici e l'uomo diventò una nefeshaya ecco perché l'uomo diventa nefeshaya perché da una forma grezza la polvere del suolo inanimata ovviamente poi diventa una forma completa e vivente prima che dio soffi quel suo trattenimento di respiro è la neshama nel momento in cui invece dio soffia quel soffio che esce dalla sua portentosa bocca diventa nefesh diventa ruach scusate vento quindi la nefesh e quando la ruach scusate già da dentro è già dentro le narici dell'uomo per dargli una forma al suo corpo la ruach a sua volta diventa nefesh quindi la nefesh da forma e scopo al nostro io fisico la metafora dell'artigiano del vetro ci fornisce inoltre un'altra descrizione di come la ruach essendo il decisore della forma diventi anche una fonte di desideri e il concetto di ruach che decide i desideri si può semplificare con l'illustrazione di una persona che si trova in mezzo ai famosi angioletto e diavoletto appoggiati sulle sue spalle uno alla destra e uno alla sinistra il diavoletto indica le inclinazioni al male ovvero la yetzer hara che ti induce a fare le cose malvagie con le cose negative mentre l'angioletto è l'inclinazione al bene ovvero la yetzer hara quel nostro piccolo angioletto custode immaginario che ci dice di non ascoltare il diavoletto ma ascolta me quindi questo è il concetto la ruach è la connessione quindi tra la nefesh e la neshama sta in mezzo e ciò è possibile a motivo dell'essere entrambi respiro divino e rivestiti poi di terra quali noi siamo che significa che la ruach è la connessione tra la nefesh e la neshama possiamo fare un esempio anatomico parlando proprio del nostro corpo umano prendendo come spunto per questo nostro esempio da un rene dall'uretere e dalla vescica il rene e la vescica sono collegati attraverso un sottilissimo tubicino attraverso la quale passa l'urina che si chiama uretere quindi il rene filtra filtra l'urina l'urina passa attraverso l'uretere e poi va a depositarsi nella vescica quindi ciò che unisce scusando l'esempio ma in modo pratico per farvi capire di che sto parlando la vescica e il rene sono diciamo collegati attraverso questo sottilissimo tubicino il rene immagine diciamo rappresenta la neshama l'uretere rappresenta la ruach e la vescica la nefesh quindi sono collegati ora siccome si trova in questo mondo intermedio la ruach è anche un'entità a sé stante e il gaon di vilna dice in una sua discussione espone nella discussione un concetto molto interessante un concetto della chiamara per i rush al kamal agados che dice gli anziani della scuola di atene hanno detto al rabbino joshua ben chanania costruisci una casa nell'aria nel mondo allora il rabbino ha pronunciato un nome divino e quindi si ritrovò sospeso tra cielo e terra e ha detto agli anziani dunque visto che volete che io costruisca una cassa nell'aria mandatemi mattoni e cemento da laggiù fatemeli salire qui in cielo nell'aria gli anziani risposero rabbi ma che stai dicendo qualcuno può forse trovare la capacità di portarli fino allassù questi mattoni e cemento allora rabbi joshua dice ah bene ok allora spiegatemi come può qualcuno trovare la capacità di costruire una casa in aria ecco come l'espressione shalom erika benvenuta ecco come l'espressione costruire castelli in aria molto usata nel nostro mondo occidentale abbia tratto ispirazione proprio da questo aneddoto rabbinico il gaon spiega che la casa nell'aria è un riferimento al ruach sospesa tra cielo e terra dopo tutto la parola ruach come ho detto in precedenza significa anche vento ora fate attenzione perché cercherò di spiegarvi qualcosa riguardo a questa triplice a questa triunità della dell'anima in rapporto alla trinità alla quale siamo abituati a credere anche la formulazione trinitaria rivista in maniera più ebraica esprimerebbe lo stesso concetto noi conosciamo la formula trinitaria in questo modo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ma una formulazione così per come noi la troviamo scritta nella bibbia non è genuinamente ebraica oltretutto si sostiene che si tratti di una interpolazione ovvero di una formula introdotta secoli dopo nel testo biblico per questioni liturgiche cattoliche quindi probabilmente e sottolineo probabilmente quindi non ho certezza questa formula nei testi originali scritti dagli autori originali del vangelo non doveva esistere ed ripeto probabilmente sembra perciò che chi ha introdotto questa formulazione trinitaria così per come la conosciamo non ha rispettato quella mentalità ebraica che permia in tutta la scrittura quindi chi l'ha scritta probabilmente non doveva essere né ebreo né doveva conoscere la mentalità ebraica che si esprime secondo un preciso ordine quando elenga le cose spirituali una formulazione corretta sarebbe nel nome del padre dello spirito e poi del figlio in in quanto lo spirito la ruach in ebraico o pneuma in in greco significano una cosa molto particolare ruach e pneuma che sono in sostanza la stessa cosa ma espressa in due lingue diverse è un qualcosa che sta sempre al centro l'aspetto spirituale è una cosa che collega due cose quando il figlio per esempio intercede verso il padre è la ruach che li mette in collegamento e tenendo conto di questo pensiero puramente ebraico possiamo discernere da soli se la formulazione trinitaria che ci è stata trasmessa sia puramente ebraica oppure una probabile stesura o aggiunta successiva di qualcuno che non ha tenuto conto della sua ebraicità quindi rispettando l'ordine delle tre persone divine in modo paganeggiante tra virgolette cioè attraverso una elencazione gerarchica e non ebraica concettuale ovvero prima il padre che è maggiore del figlio poi il figlio che è minore del padre e poi lo spirito che è minore del figlio ecco questa è l'elencazione gerarchica della formula classica della trinità ora proviamo a riflettere un attimo insieme riguarda questo perché quando yeshua parlava del padre non menzionava mai lo spirito santo perché diceva io e il padre siamo uno anziché dire io il padre lo spirito santo siamo uno lo spirito santo non viene mai nominato in questi casi in quanto è ebraicamente implicito che sia ciò che connette il padre e il figlio ecco perché non viene nominato sebbene vi sia un solo mediatore fra l'uomo e il padre che è yeshua mashiach gesù il messia secondo il concetto ebraico vi è un solo mediatore fra yeshua e il padre lo spirito santo che sta in mezzo attenzione non sto assolutamente negando la trinità non sto commettendo lo stesso errore che ho commesso che ho commesso già in passato sto semplicemente dicendo che la formulazione trinitaria che conosciamo attraverso le nostre bibbie non è abbastanza ebraica per come dovrebbe quindi questo è già un indizio un campanellino d'allarme quindi questo può esserci da indizio per comprendere se la formula che c'è stata trasmesse tramandata nei testi greco che abbiamo sia autentica oppure no dal punto di vista ebraico lascio a voi la patata bollente di decidere a quale risposta arrivare ritornando al nostro discorso sulla ruach ripeto che la ruach ha la capacità di decidere e la ruach è lo spirito il vento e con la volontà nasce il desiderio con la volontà nasce la fame di potere e di controllo piuttosto che essere il mezzo per fare le cose possiamo prendere prendere il controllo e soddisfare queste cose può soddisfare queste cose può diventare un fine a sé una persona ha il controllo su un oggetto quanto lo possiede e i soldi danno a una persona più opportunità per realizzare più dei più sogni suoi possibili ma quando qualcuno purtroppo sforma il denaro in un fine a sé non potrà mai essere soddisfatto davvero un proverbio ebraico dice chi ha 100 zuz ne vuole 200 è un po come dire chi ha 100 euro ne vuole 200 e quindi chi già possiede vorrà possedere sempre di più insomma con i soldi non si può comprare la felicità quello fino ad ora esposto quindi è un aspetto della nefesh nel suo insieme che come abbiamo visto può avere tre nomi nefesh ruach e neshama ora l'autocoscienza la consapevolezza del proprio pensiero è l'essenza di questa nefesh trina cioè il fare scelte di libero arbitrio adesso possiamo esaminare alcuni aspetti della ruach della nefesh più da vicino in base al contesto in cui sono usate queste parole ebraiche nella bibbia concentriamoci intanto ruach dico sulla ruach perché ruach è un femminile quindi mi esprimo come l'ebraico esige dal punto di vista grammaticale ruach può significare aria uno dei quattro elementi e la ruach di elohim alleggiava sulle acque genesi 1 2 ruach può significare vento e con questo significa la parola che appare diciamo con questo significato vento la parola nella scrittura appare molto frequentemente come ad esempio in esodo 10 13 quando venne il mattino la ruach d'oriente levò le locuste cioè il vento orientale fece invece venire le locuste nelle piaghe e poi successivamente nel verso 19 dello stesso capitolo di esodo 10 una ruach marittima cioè un vento proveniente da oriente e occidente quindi dal mediterraneo ruach significa anche il respiro come dice salmo il salmo 78 78 39 ricordando che essi erano carne una ruach che va e non ritorna vi consiglio di leggere il contesto di questi versetti che vi sto citando così capite meglio e ancora in genesi 7 15 sempre in riferimento al significato di respiro di ogni essere vivente in cui vi è ruach di vita venne una coppia a noè nell'arca ruach significa anche ciò che rimane dell'uomo dopo la sua morte e che non è quindi soggetto a distruzione come dice ecclesiaste 12 9 prima che la polvere torni alla terra come era prima cioè la polvere siamo noi che ritorna alla terra polvere sei polveri tornerai è la ruach ritorni a dio che è la data bene questo sono solo alcuni esempi biblici sul significato ai quali implica il termine ruach ora vediamo ciò che concerne alcuni versetti la nefesh l'ebraico nefesh indica la vitalità e come è comune a tutti gli esseri viventi senzienti quindi uomini e animali quindi escluso le piante ecco cosa dice genesi 1 30 tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé una nefesh di vita indica anche il sangue la nefesh come detto in deuteronomio 12 23 ma guardati assolutamente dal mangiarne il sangue perché il sangue è la vita e tu non mangerai la nefesh insieme con la carne e ancora è scritto in levitico 17 11 la nefesh della carne è nel sangue e nel versetto 14 si dice ancora poiché la nefesh di ogni carne è il sangue nel suo sangue sta la nefesh vedete come riesumando le parole ebraiche dalle nostre traduzioni i concetti ci risultano più chiari perché sappiamo identificare quali parole specifiche usa il testo mentre nelle nostre traduzioni spesso la stessa parola non ci fa capire effettivamente di cosa sta parlando mentre in realtà in ebraico possono essere usate parole differenti mentre noi queste parole differenti le traduciamo allo stesso modo quindi non possiamo distinguere la differenza di concetto ancora in genesi 38 6 abbiamo un altro significato di sé di nefesh per quanto riguarda il senso di ragione cioè la caratteristica distintiva dell'uomo quindi genesi scusate non genesi geremia 38 16 dice come è vero che hashem vive il quale ci ha dato questa nefesh inoltre indica anche la parte dell'uomo che rimane dopo la sua morte e questo è scritto in primo samuele 25 29 se mai sorgesse qualcuno a perseguitarti e ad attentare alla tua vita la nefesh del mio signore sarà custodita nello scrigno dei viventi presso hashem il tuo dio e un altro significato di nefesh indica la volontà come esplica il salmo 105 22 per istit per istruire i suoi principi secondo la sua nefesh cioè secondo la sua volontà ed ancora nel salmo 41 2 e tu non lo darai alla nefesh dei suoi nemici cioè in balia alla mercè alla volontà dei suoi nemici anche quando è usato il riferimento a dio nefesh ha il significato di volontà come è spiegato in primo samuele 2 35 io mi susciterò un sacerdote un koen e agirà secondo il mio cuore che significa in ebraico i miei pensieri secondo la mia volontà i miei pensieri appunto è secondo la mia nefesh dice il testo ebraico quindi secondo la mia volontà la volontà quindi implica un significato di nefesh primo samuele 2 35 quindi ora per riassumere e lo studio termina qui cos'è la neshama è l'intelletto dell'anima una parte reale di dio insida nell'uomo quindi l'immagine e somiglianze che noi deteniamo grazie al soffio divino ruach che cos'è è l'emozione dell'anima di solito è usato per significare spirito nel senso di entusiasmo e vigore quindi siccome ruach significa sia entusiasmo che vigore noi potremmo rileggere genesi 1 2 dove scritto e lo spirito di dio alleggiava sulle acque si può leggere in questo modo e l'entusiasmo e il vigore di dio vibrava sulla superficie delle acque come è possibile che si parli di entusiasmo vigore perché ruach spirito implica anche all'entusiasmo quindi nel momento in cui uno è felice lo spirito è gioioso ecco in questo modo dio era felice di creare oltretutto c'è un'interpretazione molto interessante dei rabbini dove la parola bereshit ha un significato molto bello dove la bet che la preposizione in in e poi beh significa in reshit significa principio la bet implica al concetto al significato di con soddisfazione quindi in principio con soddisfazione lo spirito di dio alleggiava sulle acque quindi vediamo come dio fin dall'inizio era felice di creare infine abbiamo la nefesh che è l'istinto dell'anima cioè qualcosa legato al corpo e che da esso non si separa bene questa mezz'oretta più o meno se ne andate pensavo che se ne andassi di più è un'idea generale ebraica sui concetti di anima e spirito vi avevo detto che non ci sarebbero magari state domande però visto che abbiamo finito abbastanza presto vado a riguardare innanzitutto i commenti per vedere se sono se riesco vi rispondo dunque vediamo un po dando benvenuti a tutti quelli che ci sono aggiunti dopo giovanni bellantoni scrive forse gli ortodossi adottano la formulazione padre spirito santo figlio per cui lo spirito santo è emanato solo dal padre no gli ortodossi non non usano la formulazione padre spirito santo figlio perché loro non hanno la concezione della trinità gli ortodossi quello che ho voluto spiegare è che la formulazione nel nome del padre del figlio e dello spirito santo così come è formulata non rispecchia il vero concetto ebraico il vero concetto ebraico della trinità si esprimerebbe qualora fosse scritto in maniera secondo un ordine per come ragionerebbe l'ebreo quindi prima il padre al centro lo spirito e poi il figlio e lo spirito che sta in mezzo connette i due quindi non ho detto che padre spirito santo e figlio sia una cosa adottata dagli ortodossi è semplicemente una formulazione che sarebbe più congrua per un pensiero ebraico quindi questo ci aiuta a capire che è probabilmente la formulazione della trinità così per come la esponiamo per come esposta nel nuovo testamento non è autenticamente ebraica quindi poterci un indizio per capire che effettivamente non è stata scritta questa formulazione da un ebreo che è quello che ci aspetteremmo dall'autore del vangelo evangeli saulo giangaspero pace la differenza tra spirito e anima allora questa domanda già è stata stata una risposta quindi ti invito a riguardare il video e per evitare di ripetere e allungare inutilmente questo intervento oltretutto visto che è stato affrontato il tema della trinità vi ricordo che sto già elaborando uno studio che prossimamente condividerò in live uno studio sulla trinità e che suddividerò in diverse lezioni la prima lezione sarà un'introduzione di preparazione dopodiché dopo questa introduzione cercherò di spiegare attraverso delle lezioni bellissime quindi di due tre minuti al massimo cercherò di essere quanto più risultivo possibile perché questi concetti sono talmente complicati che fare un video lunghissimo non non importa nessun giovamento quindi cercherò di darvi delle piccole pillole da metabolizzare poco alla volta ed evitare quindi una overdose di scrittura perché è buono studiare ma è anche buono non esagerare studiare troppo perché c'è un passo della scrittura che dice sebbene il miele sia buono non abusarne perché se tu mangi troppo miele rischi di vomitarlo quindi il miele dosarlo con i cucchiaino piccole non con il mestolo per la pasta per le pietanze da ristorante è buono accostarsi alla scrittura poco per volta molto spesso noi abbiamo quel desiderio quella sede di sapere di conoscenza che ci fa ingurgitare tante informazioni che poi alla fine ci provocano una indigestione quindi è bene andare poco per volta e questa sarà la mia la mia idea ovvero quella di proporvi uno studio a piccoli sorsi sulla trinità quindi prossimamente saranno i live spero che questo possa darvi una qualità video migliore perché purtroppo il mio computer non mi aiuta purtroppo la connessione fibra che abbiamo in italia non è per come dovrebbe essere in realtà quindi al momento abbiate pazienza perché almeno l'audio diciamo che si sente qualcun altro scrive quindi dove trovo scritto che tra il padre il figlio c'è lo spirito santo nessuno viene al padre se non per mezzo di gesù alleluia allora innanzitutto ho cercato di spiegare un concetto quindi ti invito a riguardare il video perché non trovi scritto da nessuna parte a non nella bibbia che lo spirito santo sta nel centro ma secondo la mentalità ebraica questo concetto non è stato espressamente scritto perché era già un concetto presente all'interno del pensiero ebraico e quindi inutile da riscrivere da chi invece già capiva quindi siccome il mediatore tra qua tu hai scritto nessuno va al padre se non per mezzo di gesù ok io sto dicendo questo che è lo spiegato in questa lezione che l'unico uomo è yeshua questo sto dicendo che così come tra l'uomo e dio c'è yeshua tra il figlio e il padre c'è lo spirito santo che li unisce ecco questa è la mediazione che c'è figlio e il padre lo spirito santo quindi se non ti è chiaro quello che ho spiegato ti prego di riascoltare il video con magari con meno distrazioni con più attenzione quindi meglio quello che ho voluto dire poi se ancora non ti risulta chiaro ti prego di scrivermi per email e non in privato su facebook per email all'indirizzo tora object italia chiocciola gmail.com mi espone le tue domande io cercherò di risponderti e lì si scrive primo corinzi 5 quando paolo dice di dare un uomo alle mani di satana affinché lo spirito sia salvo riferendosi all'uomo adultero cosa intendeva lo spirito in quel caso una parte dell'anima esattamente oltretutto in una lezione precedente in una parasha ho spiegato proprio questo concetto quindi magari se se la trovo se trovo questo se mi ricordo quale video era te lo te lo lingue poi potrai diciamo rivalutare questo aspetto non si tratta dello spirito maligno non si tratta di satana nel senso di cosa ti intende per l'atta dello dello spirito umano che questo questo adulto più che adulto diciamo che si tratta di un giuglio che disonora il letto di suo padre perché va a letto con la moglie di suo padre quindi viene abbandonato alla sua sceleratezza in modo che questo abbandono che non si tratta di abbandono di esclusione ma semplicemente di un isolamento a farlo riflettere nello spirito e quindi a cambiare idea e a ravvedersi e ad essere riaccolto ti sento a tratti purtroppo come dicevo la connessione non mi aiuta ma faccio quello che posso ora la prossima magari la prossima diretta sarà fatta dallo smartphone così almeno avete una fluidità di video quindi bene che può bastare vi consiglio di riascoltare questa lezione anche se il video si vede a tratti l'importante è che almeno l'audio senta bene perché alla fine l'ascolto è quello che conta di più allora ragazzi io vi ringrazio per il vostro per la vostra presenza vi do appuntamento a oggi cosa siamo venerdì quindi stasera ci sarà la replica della parasha precedente della parasha della settimana alle ore 17 e 30 turnessi chi può e chi vuole su youtube la replica della parasha potrò rispondere ai vostri commenti in tempo reale quindi con la parasha di stasera si conclude il programma settimanale quindi il nostro appuntamento è per più tardi saluto vi abbraccio e che benedica shabbat shalom saluto vi abbraccio e che vediamo